Per la preparazione di un cocktail direttamente nel bicchiere, iniziamo raffreddando il bicchiere utilizzando del ghiaccio ed espellendo l'acqua con l'aiuto del cucchiaio forato da ghiaccio. Ora possiamo versare gli ingredienti che compongono la miscela nel bicchiere con abbondante ghiaccio, avendo cura di versare prima i prodotti meno alcolici e chiudere con i distillati. Questa è una tecnica che si utilizza soprattutto quando si preparano più drink in serie, considerato che il ghiaccio si scioglie facilmente a contatto con l'alcol e quindi in questo modo evitiamo di anacquare il cocktail. Infine possiamo miscelare la bevanda con l'ausilio del bar spoon, mettere la guarnizione e servire su un tovagliolino. Grazie a tutti!